Anticipazioni dei Dreamer, mercoledì 26 agosto 2020. Anche Gams e il signor Fabri si presentano al campeggio, rompendo ancora una volta l'equilibrio che si era venuto a creare tra Jeanne e Sanem. Al campeggio viene organizzata una gara a cui ovviamente partecipa anche Sanem. La ragazza cade in una profonda buca e inizia ad avere molta paura poiché teme di non essere mai ritrovata. Naturalmente Jeanne a sentirla e a tirarla fuori. Sanem dopo essere stata salvata è ancora molto sconvolta per quello che le è accaduto, così è il fotografo a portarla a sicuro e a comportarla. Successivamente arriva Emre per ribadire a Jeanne di essere tornato in azienda, ma quest'ultimo lo aggredisce e va su tutte le furie ancora una volta. Emre allora prende la macchina per andare via dal campeggio, ma essendo molto nervoso va troppo veloce e fa un incidente. Deren scopre che Sanem non regge bene l'alcol, così per allontanarla da Jeanne le mischia qualcosa di alcolico del suo succo di frutta. La ragazza lo beve e si ubriaca immediatamente, ma al contrario di quanto previsto da Deren si inoltra nel bosco per raggiungere Jeanne. Li confessa il suo amore al fotografo e senza aspettare ulteriormente lo bacia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.